Bella ragazzi, prima del video mi raccomando, non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione, quello di Instant Gaming, dove troverete tra le altre cose un sacco di bundle di Fortnite a prezzi scontatissimi. Primo link in descrizione, Instant Gaming! Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Wey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi, mamma mia, mamma mia, con i nostri amici del gruppo Telegram di Fortnite Italy, mi raccomando anche lì in descrizione trovate il link seguiteli vi voglio parlare di un sacco di cose interessantissimi che riguardano il video di oggi lo avete anche letto sicuramente nel titolo beh ragazzi c'è un glitch che si chiama glitch dell'invisibilità calmi tutti calmi tutti vedremo durante il video un video parleremo anche di una nuova causa legale che è stata intentata contro epic games vi dirò meglio di che cosa si tratta si parla veramente di una cosa di pochissime ore fa e ovviamente non mancheranno un bel po di leaks per tenervi sempre aggiornati su tutto quello che succede anche nel dietro le quinte di fortnite ma prima ve lo ricordo dai raga un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale e mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live ma la domanda ve la devo fare ve la devo fare la domanda mi raccomando i vostri commenti qua sotto che ci tengo a leggervela soprattutto nella domanda di oggi che è molto molto particolare hai mai incontrato un hacker su fortnite ovviamente ditemi un po ragazzi le vostre esperienze vi è successo una kill strana avete fatto un muro quello ci è passato in mezzo insomma se vi è capitato sotto qua nei commenti scrivetemi la vostra storia sono davvero super curioso di leggerla ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare ovviamente due secondi spesi su quello che sta succedendo sotto al castello lo avete visto certamente tutti siamo praticamente alla resa dei conti il ghiaccio che era nell'ultimo piano nel piano più basso in realtà del castello è totalmente quasi totalmente sciolto e come vedete proprio qua sbuca una mano incatenata ragazzi si direbbe che sia la skin qualcuno dice la skin segreta della season 7 la skin neve snowfall in inglese io non ne sono così convinto ragazzi ovviamente qua abbiamo anche un'immagine un pochettino più dettagliata e zoomata di quello che si può vedere lo potete vedere tutti secondo me ragazzi come dicono altri questa potrebbe essere la skin del re del fuoco vi avevo fatto un video che ve ne parlava ampliamente andata a dargli un'occhiata che sicuramente troverete la teoria molto molto interessante ma andiamo avanti ragazzi anche perché in realtà c'è una bella particolarità questa è una mail di ieri quindi veramente freschissima risposta direttamente da epic games ad uno ad un leakers americano lui gli chiedeva delle informazioni riguardanti se non ricordo male qua il ghiaccio roba del genere morale della favola il dipendente di epic games risponde a tutta la sua mail ma qua sotto scrive una roba interessantissima there's storm coming make sure to bring an umbrella vuol dire sta per arrivare una nuova tempesta stai attento e accertati di avere un ombrello che cosa vuol dire non si sa è un'anticipazione incredibile ragazzi che probabilmente ancora nessuno ha pubblicato e ci sta davvero tantissimo non si sa una nuova tempesta sta arrivando staremo ovviamente a vedere il nuovo evento speriamo di vedercelo insieme ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece anche due secondi dello spray lama lo avete già visto nel video dell'altro ieri beh ragazzi c'è un video interessantissimo che riprende uno degli youtuber più famosi del mondo direi tra virgolette per quello che riguarda i videogiochi che è il signor lanceland come si dice lo vedete qua alle mie spalle guardate un po ragazzi il signor lanceland durante una creativa spring c'ha già il lama quindi ragazzi confermata la l'immagine le cose che avevo fatto vedere prima guardatelo la west branc c'ha già il lama e quindi ragazzi prestissimo sarà disponibile non so se ve lo ricordate ve ne avevo parlato ragazzi il lama sarà disponibile nella nel pacchetto con la cover e insieme anche al tema del telefono ea mille v bucks ma andiamo avanti ragazzi e parliamo un secondo della causa legale nuova che è stata intentata contro epic games allora tutti sicuramente ricorderete è questo ballo che fa parte della season 4 al livello del pass battaglia 63 il ballo hype in inglese in italiano si chiamava non me l'ho attesa se non ricordo male quello che faceva più o meno faceva così nel senso beh questo ragazzi non è un ballo esclusivo di epic games o almeno così ragazzi sostiene il rapper block boy jb ragazzi che ha intentato una nuova un'ennesima causa legale contro epic games per aver utilizzato senza il diritto il proprio balletto il suo balletto anche presente nei suoi video senza ovviamente riconoscergli i diritti d'autore c'è un un tweet ufficiale della sua pagina twitter dove dice every time somebody does my dance they give credit to for night game tutti quelli che ogni volta usano il mio ballo danno il riconoscimento a fortnite ma nessuno ma loro non lo hanno creato in realtà stanno prendendo soldi e crediti for my issue that's crazy per le mie cose che ho fatto nel senso quindi staremo a vedere tanto come abbiamo già ampiamente ripetuto epic games non frega assolutamente niente gli sbadilano giù un paio di milioni di dollari e lo mandano e quindi ragazzi andiamo avanti e parliamo invece della roba più interessante più interessante di quello che vi ho detto all'inizio del video questo bug che hanno cominciato a chiamare in rete raga è una roba di pochissime ore fa siete i primi a vederlo penso in italia me lo auguro per la però per lo meno cosa si fa come funziona ve lo voglio fare vedere ragazzi ve lo voglio fare vedere allora siamo al alle sponde del saccheggio a loot lake questo tizio ragazzi ha montato una torretta come vedete dopo vedrete meglio l'inquadratura ha montato una scala con una torretta lui sulla torretta guarda in alto guarda a sinistra guarda a destra e poi scende velocemente guardalo guardalo guardate raga guardate che storia è sotto al lago adesso ve lo fa rivedere guardate ecco questo il punto preciso non so se avete visto ve lo rimando un pezzettino indietro in modo che lo vedete meglio ecco qua dove lui così lo capite tutti lui qua monta una scala una piattaforma con sopra la torretta guarda su guarda a sinistra guarda a destra e poi dovete nel momento in cui scendete creare una piattaforma o non fatelo in game raga non fatelo in game vi blindano raga vi blindano non fatelo io ve lo faccio vedere a titolo informativo guardate guardate che storia guardate che storia guardate che storia guardate che storia adesso ce la fa non è facile devi essere veramente o raga siamo praticamente invisibili lui sta camminando sotto al lago dove può tra l'altro costruire e sparare senza nessun problema ragazzi lo chiamano il bug dell'invisibilità perché ovviamente agli occhi di tutti sei invisibile tu puoi tranquillamente e allegramente camminartela di prepotenza sotto al lago e intanto se magari ti capita qualcuno che ti passa sopra puoi anche sparargli e killarlo come ho già detto eviterei fossi in voi di farlo in game perché ragazzi è un glitch veramente pesante quindi potrebbero bannarvi di prepotenza l'account non è assolutamente una cosa piacevole beh ragazzi direi che per oggi io ve ne ho dette veramente tantissime vi ringrazio un sacco per avere guardato questo video vi mando un abbraccio grande un bacione noi ci vediamo presto ciao e non parte mai l'outro ah e non parte mai l'outro